La Conferenza Episcopale Italiana, grazie ai fondi dell'8x1000, ha inviato alle diocesi un contributo per andare incontro alle diverse situazioni di emergenza. A Piacenza è giunta la somma di 703.000 euro, che per un terzo sarà destinata direttamente alla Caritas, impegnata senza sosta nell'aiuto di chi vive situazioni di difficoltà e per due terzi alle parrocchie nelle varie comunità pastorali. L'obiettivo è il sostegno a persone, famiglie e denti ecclesiali che si trovano ad affrontare situazioni difficili a causa dell'emergenza coronavirus. È quanto emerso durante il consiglio presbiterale diocesano di oggi, che ha avuto luogo via web sotto il coordinamento del Vescovo di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio. Tra le altre notizie, giovedì 28 maggio alle 9.30, nel rispetto delle norme di sicurezza, il Vescovo presiderà in cattedrale con i sacerdoti e i diaconi la messa crismale, che doveva essere celebrata il giovedì santo. Sarà l'occasione per pregare per i sei sacerdoti della diocesi morti in questi mesi, Don Giovanni e Don Mario Boselli, Don Giorgio Bosini, Don Paolo Camminati, Don Giuseppe Castelli e Don Giovanni Cordani.